Perfetto, ok, è una figata perché chiude gli occhietti, intanto facciamo così e prendiamo il tessuto che noi serve, molto bene, ok, come sempre c'è un aereo che gira, però ragazzi noi purtroppo non possiamo fare segnali, quindi non ci verranno mai in soccorso, vedete, io non riesco a capire anche perché passi sopra una zattera e non la vedi, mi sembra un po' una presa per i fondelli, però va bene, qua ci siamo, allora io direi di fare un'altra bella cosuccia, sì, qua possiamo anche fare così, guardate, questa è la bella camera da letto, la facciamo su di qua, possiamo, ebbene, vediamola, allora intanto dobbiamo bere perché siamo nella M più totale, ok, perfetto, mettiamo l'acqua qui, purtroppo ragazzi all'inizio sarà così, purtroppo perché è lentissima la cosa, ma piano piano, piano piano ragazzi andremo a fare quello che c'è da fare, piano piano, piano piano, ok, allora io direi ragazzi di incominciare a mettere le nostre casse, allora, le nostre casse, io direi di metterle così, così, allora, manca, madonna, manca uno di tessuto, mannaccia la miseria, c'è ragazzi, è assurdo, una cassa, una, perfetto, non c'è, qua, intanto recuperiamo, io lo so, adesso all'inizio ragazzi sarà un po' merda, sarà un po' noiosetta come cosa, però vedrete che poi piano piano, piano piano riusciamo a fare le cose, adesso incominciamo a costruire per essere un po' tranquilli, poi vediamo, allora, adesso la cassa noi la possiamo fare, quindi possiamo creare la nostra cassa, eccola qua, e la possiamo mettere magari, ragazzi, la mettiamo qua, girata così, perfetto, così almeno ce l'abbiamo, andiamo allora, a posare un po' di cosucce, allora, prima di tutto dobbiamo fare così, allora, qua ci siamo, andiamo a prendere, molto bene, perfetto, ce la facciamo a farne un'altra cassa, vediamo un attimo, no, ci mancano ancora quattro di tessuto, ok, molto bene, io direi di fare in questa maniera, intanto, prendiamo gli assi che ci servono, prendiamo un po' di cosucce, e ragazzi, ok, io intanto ragazzi, mi porto anche un po' avanti, poi piano piano vediamo, perché la situazione è abbastanza lunga, però piano piano si risolvono i problemi, ok, qua ci siamo, questo lo prendiamo, andiamo a prenderci la nostra botte, e così piano piano ragazzi, ci miglioriamo anche la nostra, la nostra zattera, ok, perfetto, il nostro pesce qua, poi lo prendiamo e ce lo maniamo anche, perché abbiamo anche abbastanza fame, vediamo se possiamo adesso craftarci la nostra cassa, perfetto, ne abbiamo un'altra da poter craftare, e io direi di metterla così, ok, così l'abbiamo, andiamo a prendere un attimo questi assi, ci possono sempre essere bene, molto bene, allora, adesso facciamo così, andiamo qua, prendiamo tutto quello che c'è qua, tutto, e lo mettiamo nell'altra cassa, questa qua, così almeno siamo più tranquilli, allora, mettiamo questo qui, poi le corde, e i chiodi, li mettiamo qua, ok, molto bene, perfetto, andiamo a vedere di nuovo, di qua, di vuotare il nostro Amber Dunger, così, ok, prendiamo, perfetto, ci siamo, abbiamo recuperato un po' di cose, qua, no, no, ho sbagliato, mettiamo così, no, ah, facciamo così, ok, qua le corde, perfetto, abbiamo da mettere questa, abbiamo da mettere questo, fiodi, li mettiamo qua, ferro per adesso lo mettiamo qua, e ragazzi, per adesso siamo abbastanza a posto, abbiamo il nostro tessuto, mi serve, molto bene, saranno tre di tessuto, molto bene, perfetto, andiamo a prendere un attimo con le due botti di, e poi, ragazzi, io direi di fare un'altra cosuccia, prendiamo un attimo anche questa, io intanto, ragazzi, vi taglio dei pezzi, perché, se no, diventa una cosa molto lunga, eh, molto bene, allora, andiamo a prendere, andiamo di qua, e facciamo una bella cosuccia, intanto, dobbiamo poi fare su, quindi, per il momento, lasciamo qua, e io direi, ragazzi, di fare un angolo cottura, allora, per fare un angolo cottura, mettiamo il martello, mettiamo questo, e mettiamo una parete, così, così, ok, e non abbiamo più il martello, mannaccia la miseria, questi martelli, ragazzi, li stiamo facendo fuori alla velocità della luce, un'altra parete, così, no, però qua la dobbiamo mettere, così, e così, e così, e ragazzi, qua, facciamo la nostra cucina, qua facciamo un'entrata, qui romperemo, e andremo fuori, ok, perfetto, e qua faremo il nostro laboratorio, ragazzi, qui ci sarà la nostra cucina, allora, facciamo così, mettiamo questa, perfetto, ok, qua ci siamo, quindi qua possiamo entrare, andiamo a buttare giù, così, a buttare giù questa, molto bene, andiamo a prendere di nuovo il nostro, devo guardare dove è sto pirlozzo adesso, ma ti faccio, ti ammazzo, riesco ad ammazzarti, brutto caccone, molto bene, abbiamo adesso, sì, di qua, da mettere un'altra porta di queste, esatto, e la mettiamo qua, perfetto, ragazzi, noi qua abbiamo la nostra cucina, fatemi vedere un attimino, di qua va verso il nostro magazzino, quindi va bene, non è un grosso problema, di qua, io però direi di fare una bella cosa, questo, lo butteremo poi giù, adesso, adesso no, allora, fare una bella cosuccia, intanto, vediamo, questo lo possiamo fare, no, ci manca il ferro, ma noi ce l'abbiamo il ferro, il ferro noi ce l'abbiamo, qui, esatto, tac, ce ne abbiamo di ferro, un bel po' anche, ok, prendiamo questa, e la mettiamo qui, guardate un po', ok, ok, tre, e ci stanno, ragazzi, tre pesci sopra, quindi noi cucineremo tre pesci alla volta, allora, andiamo a prendere un po' di pesciazzi, uno, ce l'abbiamo, dobbiamo cercare di tenerlo sul verde, due, perfetto, dai, stai lì, eccolo qua, e tre, perfetto, dovremmo esserci, dobbiamo andare qui, perfetto, allora, andiamo nell'inventario, prendiamo, esatto, vedete, come dicevo io, intanto facciamo così, mettiamoli qua, e ne mettiamo uno, due, e tre, ragazzi, avete visto? Ce ne stanno tre per volta, perfetto, adesso noi dobbiamo bere per forza, uno, due, e qui, ragazzi, ci siamo, allora, io direi di fare un'altra bella cosa, intanto, facciamo così, e eliminiamo queste, perfetto, intanto ci recuperiamo un po' di, un po' di legna, eh, perfetto, e qua ci siamo, eh, uh, abbiamo il nostro pesce, no, 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 ok, molto bene, eh, andiamo, a mangiarci, questo, questo, ok, e siamo belli che pieni, adesso andiamo a bere perché siamo nella M più totale, ma no, vabbè, ok, adesso stiamo andando abbastanza bene, eh, ragazzi, con calma, piano piano, piano piano, andiamo abbastanza bene, eh, ok, e notte, facciamo che fare una bella cosuccia, andiamo, nanna, perfetto, riapriamo gli occhiucci, e voilà, ragazzi, e ci siamo, perfetto, queste assi sono le mie, minchia, siamo proprio sullo biorto, va bene, allora, ragazzi, dopo questo, eh, questo video, facciamo una bella cosa, io ve lo dividerò in due perché, sicuramente, è abbastanza lungo, eh, abbiamo iniziato a fare il nostro magazzino, eh, farò il laboratorio, sopra facciamo una cosa, ragazzi, inutile che mi metto lì, a, eh, farvi vedere di nuovo il tutto, eh, qui faremo la nostra, eh, la nostra camera da letto, eccetera, ok, voglio provare a vedere solo, se riesco da qua, a prendere, i nostri, eh, ambaradanger, no, eh, dobbiamo per forza andare giù, perché li attiriamo vicino, ma non li possiamo prendere, quindi, non si può dire, ok, io intanto mi porterò un po' avanti, ragazzi, farò qualcos'altro, piano piano farò un po' di cosuce, e, eh, andremo avanti, eh, io vi faccio anche vedere un'altra cosa, intanto, vedete, abbiamo da sbloccare, ancora, queste, queste qua, che non so cosa sono, ma adesso le andremo a vedere, pian piano, man mano che le sblocchiamo, che le, le facciamo, vediamo un attimino, dovremmo poi riuscire anche a, ad avere le nostre, le nostre vele, e i timoni, ok, ci andrà molto tempo, perché comunque, ragazzi, siamo a livello 14, dobbiamo arrivare almeno a livello 24, per toccare tutto, quindi, eh, ci va un po' di tempo, eh, devo fare intanto delle frecce, perché di frecce non ne abbiamo praticamente più, quindi, andiamo a vedere un attimino, facciamo delle frecce, e non possiamo fare le frecce, perché i chiodi ce li abbiamo di qua, andiamo a prenderli, ce li abbiamo qui, giusto? Sì, prendiamo, uno, due, e tre, e incominciamo a fare delle frecce, così, le abbiamo già, vediamo un po', frecce, perfetto, ok, non abbiamo più legna, però, ragazzi, abbiamo un mucchio di frecce, adesso vi farò vedere, ma abbiamo tantissime frecce adesso, no, neanche, pensavo ne avesse fatte di più, ne ha fatte solo, un pochine, quindi, nada, manca legno, farò intanto delle altre frecce, e vediamo un attimino, ok, ragazzi, io, come sempre, un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei like, condividete, aiutate a portare avanti questo canale, ok, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, a presto,